Iniziamo con la lezione on the air, all'aria aperta, via, piccola gorsetta sul posto, distanziati, bene rivaricati, braccia fuori, via, fletto e in alto, fletto e in alto, fletto e in su, piano piano, con le, ci riscaldiamo, fletto e in alto, braccia su, via, Ah, oggi c'è pure il sole che ci accompagna, ancora, su, là, ancora, fletto, su, fletto, su e l'ultimo e là, e uno e l'altro, fletto e stendo, fletto e stendo, via, 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 hop, 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 su le braccia, su, 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 ah, le braccia in alto, ancora, e quattro e tre, E due, e uno, braccia avanti, via, hop, stendo, 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 ancora, hop, vai Patrizia, vai vedere, non so se, ancora, vai, vai, uno fa quel che può, e via, fuori, via, fuori, faccio, ah, ancora, 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 muore tutto bene, Bene, dietro le braccia, via, 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 ah, ah, ancora, i quattro, e tre, e due, e uno, e fuori la gamba, una e l'altra, una e l'altra, hop, là, hop, là, hop, là, fuori, bene, fuori, ancora, E quattro, dai, e tre, dai, e due, dai, e uno, e dietro, via, dietro, 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 hop, 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 ora, e quattro, dai, e tre, dai, e due, dai, e uno, avanti, via, avanti, 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 ora, hop, bene, ora, 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 Ancora, perfetto, fuori e dietro, avanti, fuori, dietro, avanti, fuori, dietro, avanti, fuori, dietro, avanti, anche le braccia via, fuori, là, dietro, là, avanti, ancora. Hop, hop, dietro, dietro, avanti, molto bene, hop, hop, là, là, facci ancora, hop, hop, dietro, dietro, avanti, l'ultima volta, fuori, fuori, dietro, dietro, avanti, e là, e hop, e dietro, e hop, e dietro, una, dietro, due, dietro, tre, là, quattro, dai. Cinque, là, sei, là, sette, là, otto, e cambia via, dietro, due, dietro, tre, dietro, quattro. Questi esercizietti semplici fanno molto bene per l'osteoporosi. Ancora, quattro, tre, due, noi ancora siamo tanto giovani. Per quale motivo? Beh, perché stimola la ricrescita dell'osso. No, questo è un'ottima. Ma perché il movimento è fatto così? Perché l'osso ha bisogno di stimoli, di stimoli, affinché, poi, sì, i giovani, no? I giovani di calcio vengono fissati sulle trabecole osse. Ah, pronti con le braccia? Pronti, pronti? Due denti spingo su, due denti scendo giù, su, su, giù, giù. Hop, hop, e, e, hop, hop, dai, 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 ancora, dai, hop, 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 l'ultimo, di seguito via, su, su, e allungo le braccia. Dai, dai, piano, piano, cammina sul posto, Fede, cammina sul posto, così, sul posto, quattro, tre, due, uno, e due tempi avanti, due tempi indietro, hop, hop, avanti, avanti, dietro, dietro, hop, hop, avanti, ancora, avanti, 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 piano, hop, Ancora, bene, ci siamo? L'ultimo di seguito, via, hop, 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 e quattro, e tre, e due, e uno, in basso, giù, giù, hop, hop, giù, giù, fletto, fletto, hop, hop, la, la, hop, hop, la, la, dai, su, su, hop, hop, ancora. Dai, 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 hop, hop, bene, ancora, vai, vai, giù, giù, su, su, giù, giù, su, su, giù, vai, vai, ci siamo? L'ultimo, 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 e di seguire, via, fletto, 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 ah, bel respiro, profondo, ancora, e quattro, vai, tre, tu ti ha posto, Claudia? Due, uno, e via, e fuori, fuori le gambe, vai, fletto le braccia, bene. Allora, lì c'è l'ombra, ancora, là, ancora, bene, fuori le gambe, fletto le braccia, benissimo, allora, il movimento lo potremmo fare in statico o con un piccolo rimbalzo. Questo piccolo rimbalzo serve per lo scopo di prima, ancora, però è importante ammortizzare caviglie, ginocchia, anche, quindi la rigidità non è di casa, si allontana la rigidità, morbida, morbida, tutti morbidi, ancora, ancora, eeeh. Fletto, stendo, hop, giù, fletto, e giù, hop, e là, 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 ancora, e quattro, dai, e tre, dai, due, dai, uno, e una flessa, l'altra tesa. Fletto, stendo, hop, e là, hop, e là, bene, ancora, e quattro, e tre, e due, e uno, e cambio, via, hop, fuori, hop, fuori, hop, fuori, hop, fuori. Dai, quattro, dai, tre, dai, due, dai, uno, e piccola corsetta, braccio fuori, vai, giù, 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 alla grande. Gio, giù, 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 dai, dai, con forza, con forza, con forza, dai, le braccia contrattative, dai, ancora, 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 e là, pollici avanti, pollici in alto, avanti, in alto, avanti, in alto, ancora, ancora, ancora. ancora, ancora, di seguito, via, 4, 3, 2, 1, di nuovo, via, forza, forza, ma che voglio parlare su e giù, parlare su e giù, parlare su e giù, parlare su e giù, aspettate, ma io con i nodi non so, mi si sciaggono tutti, ancora via, vi seguito, ancora, ancora, trovarti un marinaio che ti insegna, ancora, 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 i marinaio, ogni porto, ancora, 4 dai, 3 dai, 2, 1, braccia avanti, si sentono, ok, ma non fanno i nodi, io su, su, beh dai, stanno sul piume, quindi, ancora, ancora, pronti, veloci, via, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, grande, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, veloci, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, veloci, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, veloci, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, incrocio, via, hop, 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, incrocio, via, hop, 2, 3, 4, dai, 5, 6, 7, 8, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e via, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, l'ultimo, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, si sentono, 3, 2, 1, e via, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ancora, 8, 8, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, prendiamo i pesetti, teniamo i pesetti o le bottiglie, pronti? 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 Allora, ci siamo? Ah, stop touch, passo laterale a destra, a sinistra, bene, che andiamo a fare? Andiamo a portare là, pronti? 1, e l'alto, hop, e l'alto, hop, e l'alto, so, 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 bravo, ancora, 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 no, si sono un po' svuotate dopo, ancora, dai, e 4, e 3, e 2, e 1, rimango, via, hop, 2, 3, qua, i pesetti in mano, 5, 6, 7, 8, pronti? E hop, 2, 3, qua, 5, 6, 7, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rimango, 2, 3, qua, 5, 6, 7, ancora, 8, 7, 6, spalle basse, 5, 4, 3, 2, 1, rimango, 2, 3, qua, 5, 6, 7, occhio, occhio, chiudo, apro, 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 ancora 4, e 3, e 2, e 1, insieme, hop, apro, hop, apro, il busto è retto, le spalle basse, di braccio, le braccio, le spalle, ancora, 4, si sentono, 3, solo Federico, 2, 1, rimango, piccoli, via, busso, su, su, ancora, e sono le braccia che si lavorano poco, quindi... gomiti, 4, 3, 2, 1, fermi, solo un braccio, ok? Questo lo teniamo giù, spingo e ritorno, e 2, gomito, 3, ritorno, 4, ritorno, 5, 6, il pesetto tempo in mano, 7, o la bottiglia, 8, ancora 8, 8, 7, bene, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fuori, piccoli, via, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 8, 7, dai, 6, dai, 5, 4, 3, 2, l'ultimo, l'ultimo, rimango 8 in isometria, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lascio il braccio morbido, con il pesetto che oscilla, dai, dai, morbido, morbido, lasciato andare il braccio, lasciato andare nella spalla, ancora, bel respiro, in effetti i gabbiani vorranno passi, ci fanno compagnia? – No – Ma come farlo E quem si giove? – Aha? E là, pronto? Oh, oh! C'è qualcun altro che ha la borsa lì. Appenso che sei fuori, eh? Adesso! Se non ho quella macchina Ti ha un braccio e qualche bestia Ok, pronti? Via e su e là, su e là, su e là, su e là, su e là. C'è una macchina che si è avvicinata ma noi non ci preoccupiamo e tanto se ne sta andando ancora. E su e rimango, via, perfetto, ancora, 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 pronti? Di nuovo, via e su, là, su, vedi, ancora, su, ancora, bene, su, su, si sente il deltoide? Si o no? Bene? Ok, rimango? Qual è il deltoide? Questo. Allora, da casa non lo sanno ma stavamo rischiando ad avere un cellulare fuori uso con la macchina che stavo passando. Ok, allora l'abbiamo fatta e dobbiamo fare l'ultima, via su e giù, due, ci siamo un attimo distratti, tre, ancora, quattro, ancora, cinque, ancora, spingo su, sei, ancora, sette, ancora, otto, gli ultimi otto, dai, sette, là, sei, là, cinque, là, quattro, bene, tre, là, due, vai, uno, e pronti, piccoli, 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 via, 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 si sentono? Sì. Ok. Oh, questo volevo sentire un sì deciso. Sì, sì, sì. Un sì deciso. Ok, dai, dai, dai che poi lasciamo andare la spalla, tra poco, ancora in tutti i sensi, e là, oscilliamo, via. Ah, ancora, bene, ancora, 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 mi sa se ci abitano lì, dormono. Ok, adesso tutte e due le braccia che oscillano, bene, ok, e stop, braccio giù, piego e tiro, piego e tiro, prendo aria, fuori aria, tre, prendo aria, fuori aria, quattro, prendo aria, fuori aria, scendo, inspiro e espiro, sei, d'orso piatto, sette, ancora, otto, ancora otto, via. otto, la, sette, la, sei, Federico viene qui a fare l'esercizio, cinque, con la scusa di bere, quattro, salti, tre, lo squat, due, uno, solo le braccia, via, due, tre, spalle aperte, quattro, cinque, sei, sette, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, e scendo e spingo su, scendo e spingo su, uno, due, via, e tre, dai, quattro, dai, cinque, la, le mani, sei, e la, sette, e la, otto, ancora otto, otto, bene, sette, la, sei, la, cinque, la, quattro, la, tre, la, due, la, uno, e so, via, oh, via. Adesso, sinistra, adesso, sinistra, ancora, ancora, apro le spalle, fletto e stendo, fletto e stendo, ancora, 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 apro le spalle, dai, 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 respiro nel mentre, ancora, ci siamo, ancora quattro, dai, ancora tre, dai, ancora due, dai, ancora uno, e stop. Ok, facciamo il nostro tricipite, poi facciamo un po' di esercizi alle nostre manicale, scale, ok? Allora, o una bottiglia o due, dipende se avete i pesetti, su una mano sola, e andiamo a fare il classico, movimento di fletto e stendo, fletto, via, fuori aria, prendo aria, due, o una sola, tre, uno, due, dipende, quattro, cinque, sei, tengo il braccio vicino al capo, sette, otto, ancora, otto, la, sette, la, sei, la, cinque, la, quattro, la, tre, la, due, la, uno, rimanga a metà strada, metà corsa, piccoli movimenti, braccio vicino all'orecchio, sempre, due, tre, quattro, adesso, gira, cinque, un'altra macchina, sei, sette, otto, ancora otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, fermi, otto, sette, sei, cinque, si sente? Quattro, tre, a casa si sente? Due, uno, bene, allora, adesso andiamo dall'altra parte, poi facciamo lo stretching del braccio, pronti? qui, vicino, su, uno, e due, la, tre, vicino, quattro, ora, cinque, la, sei, la, sette, la, otto, ancora, otto, la, sette, dai, sei, bene, cinque, la, quattro, su, tre, dai, due, dai, uno, piccole contrazioni via, uno, due, a metà corsa, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, rimango, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, e là, bene, lascio il pesetto, metto, affletto il braccio, poggio la mano sulla spalla, e vado a tirare, mi aiuto tirando il gomito, si sente? Sì, sì, abbiamo finito che facciamo stretching! Sì, attenzione a non cadere dentro! Ancora, andava dritto, e cambio l'altro, mano sulla spalla, alzo il gomito, tiriamo! Sì, guardiamo Federico a salvarlo! Sì, facciamo che lo... Abbiamo qui i vincili del tuo avuto, le rie, le spavano loro, tiriamo! Sì, le spavano loro, dai, dai, sono bravi loro! Sì, vediamo, si sente? Tira! Oh, lasciamo le braccia morbide! Quindi, se io adesso iniziamo a fare gli esercizi, sono queste scale, allora, distanziati, magari vi metterò anche di là, comunque distanziati, allora, si salgono le scale, normalmente, ma noi pure... Eh? Queste le mettete da parte. Allora, si salgono, si scelmano le scale, quattro volte, normalmente e rapidamente, dopodiché, arrivati alla parete, e magari, Claudia, tu lo puoi fare anche lì, l'appoggio sul... Eh? Andiamo a fare i piegamenti sulle braccia, in maniera classica, le mani all'altezza del petto, pieghiamo e ritorniamo. Quattro salite e disceme. Pronti? Via! No, normale, normale, di corsa, di corsa sulle scale, di corsa, sulle scale, di corsa, di corsa, e a uno, e poi scendo, via, subito di corsa, di corsa, di corsa. Bene, tu falli il doppio, perché lì ce ne sono di meno. Via, di corsa, due, su, su, subito, 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 rapidi, in alci, ancora, e là. Bene, ancora, via, su, spingo, la terza, spingo, 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 ma noi siamo spantati. Questa è? La quarta. Mi era aperta. Bene, la tavola, manca uno. Perfetto, ho fatto la quarta, ci appoggiamo con le mani alla parete, mani altezza, andate e ritorno, e poi piegamento sulle braccia, piego e ritorno. Via, una e ritorno, via, due e ritorno. tre, ritorno, quattro, ritorno, cinque, ritorno, sei, ritorno, sette, ritorno, otto, ancora, uno, dai, due, i piedi un pochino più indietro, tre, sentiamo il carico sulle braccia, quattro, colpo proteso dietro, cinque, sei, sette, otto, rimango, piccole contrazioni, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sei, piego le braccia, cinque, quattro, tre, due, uno, rimango le braccia semi piegate, veramente semi piegate, sentite il carico sugli arti superiori, quattro, tre, due, uno, e via di corsa, si ritorna, adesso si fa la salita solo con la gamba destra, ok? Solo gamba destra, si sale per quattro volte solo con la gamba destra, lungo, 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 bene, 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 perfetto, quattro volte sempre di destra, quindi a casa si fanno gli affondi, affondo, affondo, bene, quattro volte si sale di destra, sempre quattro volte di destra si sale, poi si ritorna normalmente giù, poi, ok, adesso destro, piego e ritorno, benissimo, un busteretto, prendo aria, fuori aria, che è giusto, e perché lì sono pochi i gradini, mettiti proprio lì all'angolo se vuoi, quanti ne abbiamo fatti? questo per me è il terzo, ok, terzo, facciamo un altro, eh sì, a voi, ah tutto, quattro cibi dei gluti lavorano, allora quattro di destra, e ha fatto i quattro, adesso quattro di sinistra, pronti? ma è meglio abbondare che definire, pronti? via su, di sinistra, la discesa dinamica, 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 che riesco a fare, va bene, l'importante è dare sempre il massimo, vero? vero? vai, Fabrizio è la seconda, vero? sì, ok, altri due, sempre di sinistra, l'apriva, bene, ancora, vai lungo il passo, lungo, benissimo, ok, questa è la quarta, bene, dopo aver fatto la quarta ripetizione, si arriva alla parete, e si fa il piegamento solo con il braccio destro, otto piegamenti, e ho le due, sì, alla parete, quindi otto più otto sarebbero sedici, più isometri, piccoli, e poi isometria, pronti? via, piego il braccio, uno, piego, due, corpo protesto dietro, tre, ancora, quattro, ancora, cinque, ancora, sei, piego solamente un braccio, sette, piego solamente un braccio, otto, la prima serie, ancora, uno, dai, due, dai, un braccio solo, tre, solo il destro, quattro, solo il braccio destro, cinque, sei, sette, otto, piccole contrazioni, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, sette, piccoli, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, rimango in contrazione, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, cambio, braccio, pronti? l'altro, via, spingo, uno, e, due, e, tre, quattro, braccio sinistro, cinque, sei, la, sette, la, otto, ancora, otto, dai, sette, dai, sei, dai, cinque, dai, quattro, bene, tre, la, due, la, uno, piccoli, via, e, o, due, tre, braccio sinistro, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, fermi, otto, tempi, inizometria, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, e, stop, bene, pronti? ci mettiamo qua, in piedi, in piedi, Federico, che ore sono? Le otto, cinque, no, tre, sette, in coranza, perfetto, ok, allora, in piedi, pronti, via, adesso, circonduzione, rapido e veloce, circonduzione, rapido e veloce, per farlo, che cosa stiamo contraendo? Vai, stingo, quindi come vedete, possiamo fare gli addominali, anche te in piedi, guarda che giochiamo la matricana dentro, quella, e quando vuoi tu, organizza, vede, tu sei bravo per questo, vai, ancora, stringo, ancora, 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 stringo tutto, stringo tutto, ancora, e cambio l'altro, via, hop, stringo, 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 senza, senza, ancora, dai, 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 ancora, 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 7, ancora, 6, contra, go, forza, 5, 4, 3, 2, 1, e là, benissimo, adesso si corre, velocemente sulle scale, arrivati in quella posizione, appoggiamo le mani alla parete, e si fa una corsa rapida, ginocchi alte, ma come se volessimo respingere la parete, ok? E invece mi c'è lei, si consente. Pronti? mani alla parete, sulle ginocchia, rapida e veloce, spingo, spingo, benissimo, sulle gambe, sulle gambe, sulle gambe, questa ginocchia alte, via, 1, 2, 3, sulle ginocchia, 4, 5, facciamo spostare la parete, 6, 7, 8, ancora 8, 7, 6, sulle ginocchia, 5, spingo, 4, dai che si sta spostando, 3, dai, 2, sulle gambe, sulle ginocchia, 1, via ricorsa, si riscende, braccio avanti, singolo addome, vai, contrargo, contrargo, rapido e veloce, vai, forza, forza, devo sentire tutto, stingo tutto, vai, ancora, 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 stingo tutto, contrargo, ancora, ancora, non è tanto di braccia, proprio, sento l'addome che si muove, si attiva, dai, ancora, dai, 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 ancora 4, pure i glutei si stringono, 3, poi con tutte le scale i glutei lavorano tanto, 2, 1, cambio, dall'altra parte, via, dai, stringo, 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 forza, stringo tutto, vai, petto, addome, glutei, stringo, forza, 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 stabilizziamo il bacino, dai, 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 oh, ancora, ancora, dai, 4, 3, tra poco ceni, 2, dai, dai, 1, via di corsa, come prima, di corsa, salita alle scale, e appoggiati alla parete, sulle gambe, spingos, 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 ancora su 8 spingo sulle ginocchia 7 da cassa sulle gambe 6 5 su su 4 3 le gambe in alto 2 sulle gambe 1 e la facciamo l'ultima serie promesso l'ultima serie braccia avanti spingo tutto spingo tutto con trago via stingo non fate pinta fatemi vedere che costraete l'addome ancora attivo tutto stingo frederico forza ancora 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 vedi come sono educati ancora 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 cambia dall'altra parte via spingo rapido e veloce rapido e veloce rapido e veloce rapido e veloce c'è chi passa e saluta c'è chi passa e non saluta quello di prima era molto evitato ancora 4 ancora 3 ancora 2 ancora 1 la ricorsa l'ultimo si può fare si può fare dai che abbiamo spostato già la parete di un po' di centimetri sulle gambe sulle ginocchia mani in appoggio se avete la parete fate questo su spingo la parete sulle ginocchia proprio un momento rapido scherpotto sulle ginocchia dai 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 noi non lavoriamo mai in economy sempre al massimo diamo sempre il massimo vero? ancora dai sulle gambe ancora su 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 ancora 4 dai 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 3 dai 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 2 1 e stop spingiamo diventiamo i piedi ancora questa mattina portiamo indietro la gamba facciamo tirare il nostro meraviglioso colpaccio spingo il tallone indietro in basso sente? tallone giù punta avanti e questa posteriore sì quella anteriore piegata spingo spingo spiro il colpaccio ok bene adesso piego quella posteriore e fletto il busto su quella anteriore porta il piede a martello giro torcio piatto bene e cambio l'altro spingo dietro questa tesa questa piegata e mi piegata solo 19 solo 19 perché ho fatto su e giù perché io ho fatto 12.255 io 10.555 e giù avanti tira impegnativa e tutta salute tutta salute e su srodolo la colonna benissimo allungo le braccia fletto il busto tira a fianco ora e su dall'altra parte si super pronti tira bravo le spalle bravi dall'altra parte appoggio letto e tira bravo le spalle bravi 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 abbiamo degli allievi modello appoggio appoggio inspiro e giù su prendo aria fuori aria e giù inspiro e spiro e ritorno su 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 e giù ragazzi grazie grazie a voi grazie ci vediamo alla prossima lezione on the air sempre alla push up grazie